Siamo qui con Roberto Micco, Cento. Questa partita ha la sua firma. Cosa ci dice questa partita? È stata una bella partita, la squadra ha giocato bene, i ragazzi sono allenati duramente questa settimana. È stato giusto, siamo una grande squadra, l'obiettivo è vincere il campionato. Possiamo andare in Europa e poi si vedrà. Siamo qui con Simeone Ciolo, detto anche Gianluca per gli amici Gianlu. Quanti cosa hai fatto oggi? Due. Diciamo sì, il secondo è stato deviato dal difensore. Quindi diciamo che uno e mezzo, dai. Uno e mezzo, diciamo due per il campionato, per la classifica dei bomber e marcatori, lei è a due. A chi li dedica questi due gol? Li dedico a mister Roberti e a presidente Bruno Giordani e a tutti i compagni del circolo Morselli. Grazie. Baci. Grazie. Grazie a tutti.